Che palle ma dov'è? Non finirà più sta bagliacciata. Ma non gli avevi chiesto scusa? Certo. Cioè non proprio scusa parola per parola ma era implicito. Perché sei la solita merda. Beh dai, salso di qualità. Da merdina a merda. Ora stai a vedere che è colpa mia. Mia non è... Nonno ti presento Enzo. Enzo ti presento nonno. Tieni fai qualcosa. Lillo!